Mi rende felice fare questo lavoro. Lo faccio per amore. Questo lavoro mi permette di pregare per mio padre che è scomparso. Ora la sua anima riposa in pace. Così io posso pregare per lui anche in questo cimitero. Karim, musulmano 21enne, arriva dalla Guinea e da sette mesi si trova Puppi, ospitato in un centro di accoglienza del gruppo Centofiori. Lavora volontariamente per il Comune occupandosi della pulizia del cimitero che ha trasformato in un vero e proprio giardino. Una buona accoglienza parte dal presupposto di condividere alcuni valori, valori nostri e valori di chi si deve accogliere. Il fatto di essere in un cimitero dove sostanzialmente ci sono gli affetti delle persone perché il cimitero è un luogo di culto, dove praticamente ognuno ha i propri amori, i propri ricordi, dà la presenza quotidiana. Avere Karim che fa questo lavoro pur essendo di una regione diversa alla nostra significa che se non altro il valore vita-morte, cioè quindi il culto della vita dopo la morte è un valore comune. Siamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Cioè lui se l'è sentito un luogo come suo, nel senso che dico ma guarda che qui, no dice la morte, mi faceva capire Roberto, è di tutti. Cioè io quando sono qui, mentre pulisco, mi sento che facessi qualcosa per i genitori e per la gente che ho lasciato. È stato un viaggio lungo e duro quello che ha affrontato Karim una volta lasciata la Guinea. Ha infatti attraversato il Mali, il Burkina, Faso, il Niger prima di arrivare in Libia. Qui la prigione e poi il viaggio su un barcone alla volta di Lampedusa. Quando si è sul mare e hai di fronte la morte, ti dice che la vita è finita. La vita non è facile, richiede molti sacrifici. Il giovane viene da lontano ma guarda altrettanto lontano. Quando non si occupa del cimiterro, infatti studia, frequenta corsi di lingua italiana in due scuole, a Poppi e a Bibbiena. Lui mi ha detto che anche se non è un paese in guerra, la Guinea, comunque c'è la fame, c'è la miseria, che sono la sorella della guerra e tanti altri problemi. E che aveva un sogno importante a tuttora, quello di poter studiare, cosa che non è stata possibile al suo paese continuare gli studi. E questo perché un giorno potrà aiutare il suo paese. Grazie a tutti.